Ragazzi è aperto il gruppo telegram di Dillo all'armadillo entrateci numerosi così parleremo di GTA dei glitch di tutto quello che volete trovate il link in descrizione nel commento fissato in alto anche tu vuoi avere il tuo com e il tuo rimorchio antiaeremo dato in questo video scoprirai come fare in una maniera semplicissima insieme a un amico prima però devo togliermi la soddisfazione dare una ginocchiata volante a questo non ci credo sono caduto come un sasso quando ero piccolo lo dicevo che da grande avrei voluto fare il sasso ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dillo all'armadillo in questo nuovo video vedremo come ricevere il com e il rimorchio antiaeremo dati da uno qualunque dei nostri amici quindi noi arrubberemo i suoi veicoli ringrazio brasiliana per la dritta sul glitch e per avermi permesso di girare questa clip vi ricordo se doveste riscontrare problemi con l'esecuzione di questo glitch entrate nel gruppo telegram ci sono 1100 persone siamo cresciuti tantissimo e troverete sicuramente qualcuno che potrà darvi dei consigli e potrà aiutarvi nell'esecuzione del glitch cominciamo subito con la lista dei requisiti allora bisogna avere un amico quello in dubbio e l'amico deve avere sia il com sia il rimorchio antiaereo moddati può non averli moddati ma nel caso non li ha moddati vi prendete semplicemente un com e un rimorchio antiaereo che potreste comprare senza problemi però nel caso siete dei poveracci fateveli passare anche se non sono moddati ovviamente voi dovrete avere sia il com sia il rimorchio antiaereo moddato o meno è indifferente l'importante che li abbiate all'interno del vostro bunker sia voi che il vostro amico dovrete entrare all'interno del bunker ognuno nei rispettivi bunker quindi voi nel vostro e il vostro amico nel suo poi dovete avere l'alloggio all'interno del bunker sia per chi dona sia per chi riceve se non sapete come fare vi basta semplicemente aprire il telefono andate sulla mates bank poi stringete il filtro su bunker selezionate il vostro bunker e comprate l'alloggio questo che vedete in questo momento io l'ho già acquistato quindi non devo fare nulla se non lo avete lo acquistate poi bisogna avere rientro in ultima posizione all'interno del bunker motivo per cui dobbiamo per forza comprare l'alloggio se no non possiamo avere rientro nel bunker poi una volta ha cambiato il punto di rientro andiamo su stile cambiamo d'abito così forziamo il salvataggio e il nostro amico deve essere abbastanza simpatico altrimenti lo potrete lasciare baggato nella sua sessione io in questo caso faccio lo scambio ricevo anzi il veicolo da una donna quindi non posso permettermi di alzare troppo la testa perché altrimenti mi fa vedere i sorci verdi una volta ottenuti tutti questi requisiti quello che dovrete fare è avviare la sessione inviti invitare il vostro amico barra amica alla sessione inviti ed attendere che entri quindi premiamo il tasto option andiamo su amici selezioniamo l'amico premiamo x e selezioniamo spedisci invito alla partita una volta che il nostro amico in sessione con noi dovrà invitarci al suo bunker quindi gli basterà aprire il menu del touchpad e selezionare invita al bunker la prima voce nel menu interazione in pratica logicamente prima di farlo deve trovarsi all'interno del suo bunker una volta che il nostro amico ci avrà invitato vedrete che in basso a sinistra sopra la mappa spunterà l'invito a questo punto apriamo il telefono andiamo su lista di attività quindi l'icona centrale selezioniamo l'invito del nostro amico e indovinate un po lo accettiamo partirà il caricamento una volta respawnati ci ritroveremo all'interno del bunker dell'amico come vedete ora sono all'interno del bunker di brasiliana perché lei ha le macchinine con cui spostarsi all'interno del suo bunker quello che dobbiamo fare noi che riceviamo il veicolo è avviare una partita a freccette quindi apriamo il telefono andiamo sull'icona a sinistra avvia partita veloce quella blu per capirci scorriamo la lista verso l'alto perché così facciamo prima selezioniamo attività poi selezioniamo freccette selezioniamo amici in sessione e confermiamo se guardate in basso a destra è spuntato un nuovo messaggio che dice in cerca di un'attività nel momento in cui questo messaggio cambia diventa popolamento sala d'attesa noi ci avviciniamo il più vicino possibile al com dell'amico il nostro amico riceverà il messaggio d'invito alla partita a freccette quello che dovrà fare a questo punto è andare sul cerchietto azzurro del suo com stare con il con la selezione su entra da solo e a questo punto deve premere due volte il tasto ps partecipare alla alla mia sessione quindi alla sessione di chi riceve il veicolo il primo messaggio lo accetta subito il secondo messaggio aspetta tre secondi dopodiché comincia a spammare 45 volte x una volta spammata x si ritroverà sulle nuvole quindi sembrerà che di lì a poco verrà respawnata in un'altra sessione in realtà viene respawnata nuovamente all'interno del suo bunker a quel punto vi ritroverete entrambi all'interno del bunker e uno come vedete brasiliana non vede me e io non vedo lei questo significa che il glitch è riuscito a questo punto voi che riceverete sia il com che il rimorchio antiaereo dovrete tenere premuta frecce in giù selezionare uno dei personaggi della storia offline per tornare alla storia ed attendete l'uscita dalla sessione e il caricamento della storia offline mi ricordo che nel gruppo telegram regaliamo veicoli quindi droppiamo veicoli ogni tanto abbiamo uno staff abbastanza numeroso e cerchiamo di soddisfare tutti e di aiutare tutti in questo momento stiamo regalando le issi le delaxo e le oppressor mk2 quindi entrate numerosi mettetevi in lista e vedrete che anche voi riceverete i vostri veicoli gratuiti nel momento in cui finirete nella storia offline il vostro amico dovrà semplicemente andare sul party andare su giochiamo insieme e invitarvi praticamente alla sua sessione avrete un messaggio in alta sinistra vi basterà premere il tasto ps partecipare alla partita dell'amico vi verrà chiesto se siete sicuri logicamente lo siete quindi premete x e quindi attendete di essere respawnati in sessione io intanto volevo salutare marcellino panevino emanuele oliva e sebastiano 731 per aver lasciato un commento negli ultimi video con l'hashtag dillo all'armadillo se volete apparire anche voi nei prossimi video lasciate un commento con l'hashtag dillo all'armadillo seguito dal commento che desiderate e piano piano vi saluterò tutti mi raccomando se vi piace il video mettete un like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina così sarete aggiornati su tutti i nuovi video in uscita una volta terminato il caricamento verrete respawnati all'interno del bunker perché avrete impostato il rientro all'interno dell'alloggio del bunker uscite dall'alloggio se ci fate caso in realtà questa è una cosa che abbiamo scoperto mentre facevamo il glitch in realtà non mi trovo all'interno del mio bunker perché io non ho le macchinine con cui posso girare l'interno del bunker in realtà sono spawnato all'interno del bunker di brasiliana che però è talmente baggato da essere il mio oppure il mio che è talmente baggato da sembrare il suo insomma in un modo o nell'altro comunque sono in un bunker molto simile a quello di brasiliana abbiamo sia il com bianco e viola di brasiliana sia il rimorchio antiaereo con questo stile un po poco mascolino diciamo e le ruote da formula 1 a questo punto quello che dovrete fare è salvare i veicoli sia il com che il rimorchio antiaereo quindi per salvare il com ci dirigiamo dal banchetto di lavoro sulla sua sinistra dove c'è il l'armaiolo diciamo premiamo freccia destra selezioniamo il com logicamente e per salvarlo non facciamo altro che fare una modifica qualunque io modifico i freni perché sono quelli che costano meno sia alla motrice sia al rimorchio basta una qualunque modifica non c'è bisogno di fare chissà quali modifiche io alla motrice aggiungo le armi già che il com di brasiliana non ce l'aveva ed uno è fatto per salvare invece il rimorchio antiaereo scendete giù andate a selezionare personalizza rimorchio antiaereo non appena premerete x sparirà al menu interazione questo significa che il glitch sta riuscendo quindi adesso uscite dal bunker il vostro amico a questo punto può abbandonare la sessione una volta fuori voi invece aprite il menu interazione andate su veicoli selezionate rimanda il veicolo al deposito se per caso avete il vostro veicolo all'esterno del bunker altrimenti richiamate direttamente il rimorchio antiaereo sempre dal menu veicoli del menu interazione vedrete che sembrerà non succedere niente dopo una trentina di secondi vi chiamerà il meccanico premete cerchio per rifiutare la chiamata e vi verrà spawnato il rimorchio antiaereo in realtà non lo vedrete sulla mappa quindi preparatevi a girare come la merda nei tubi cercando a tentoni e ad occhi quasi chiusi il vostro rimorchio antiaereo io come vedete faccio completamente il giro del bunker senza riuscire a trovarlo ed eccolo qua lo trovo in mezzo alle fresche frasche attaccato al pick up quello che dovete fare a questo punto è aprire il menu interazione andare su stile cambiare lo stile ed attendere che in basso a destra venga mostrata la rotellina arancione del micro salvataggio una volta fatto questo anche il rimorchio antiaereo sarà perfettamente salvato una volta che avrete effettuato il micro salvataggio aprite il menu interazione andate su veicoli e rimandate il rimorchio antiaereo al deposito selezionando rimanda veicolo al deposito a questo punto se entrate nel bunker e andate di nuovo dal banco dell'armaiolo se provate a modificare il rimorchio antiaereo non vi permetterà di farlo quindi finirete comunque con il vedere il menu chiudersi da solo quello che dovete fare è semplicemente chiudere l'applicazione quindi chiudere il gioco riaprirlo rientrare in una qualunque sessione online e vedrete che vi sarà permesso modificare il vostro nuovissimo rimorchio antiaereo vi ricordo che se doveste incontrare dei problemi con questo glitch vi basterà semplicemente entrare nel gruppo telegram che trovate sia in descrizione sia nel commento fissato in alto e troverete 1100 persone disposte ad aiutarvi oddio non saranno sicuramente tutte 1100 però su 1100 qualcuno sicuramente lo troverete anche questo video è finito mi raccomando ragazzi andate in pace mettete un like al video se vi è piaciuto e anche se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su nuovi glitch e cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche in questo modo non ve ne perderete nemmeno uno di glitch guardate anche tutti gli altri video sul canale laicatemi tutto noi ci vediamo al prossimo video ricorda se dopo questo video ti ha morso un coccodrillo dillo all'armadillo ciao 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 ciao